Buongiorno a tutti, continuiamo i nostri spunti sulla parasha Tashavua, la parasha di Shelach Lecha. Nella parasha di Shelach Lecha viene trattato l'argomento degli esploratori, delle persone scelte da Moshe Rabbeinu per andare a capire e a controllare effettivamente il nuovo territorio che dovrà essere conquistato da Misrael, Erez Israel appunto. Moshe Rabbeinu inizialmente non vuole mandare questi esploratori, il popolo spinge perché è impaurito effettivamente da quello che potrebbe accadere e a Kadosh Baruch Hu diciamo Moshe Rabbeinu scegli, manda delle Annashim, manda delle persone, i commentatori spiegano che Annashim sono persone importanti, Zaddi Kim, manda delle persone a controllare Erez Israel, che cosa fa Moshe Rabbeinu? Sceglie i dodici capi tribù, li manda in Erez Israel, dieci di questi ne parlano negativamente, due che sono Kalev Ben Yefuné e Yoshua Bin Nun ne parlano positivamente. Che cosa fa il popolo? Il popolo impaurito dalla descrizione di Erez Israel da parte dei dieci esploratori decide effettivamente, chiede di rimanere là, impaurita da Erez Israel e a Kadosh Baruch Hu manda un'epidemia e molti uomini di Amisrael poi effettivamente muoiono. I maestri discutono molto su quale fosse il peccato degli esploratori, loro effettivamente hanno riportato quello che hanno visto, hanno semplicemente detto quello che hanno visto, qual era l'intento degli esploratori, per quale motiva Kadosh Baruch Hu non accetta quello che dicono gli esploratori. Per capire questo, il primo Rashid della Parashah dice che l'argomento degli esploratori non è cronologicamente giusto inserirlo qua. La Parashah della settimana scorsa termina con il peccato della maldicenza di Miriam nei confronti di Moshe Rabbeinu e Rashid dice, visto che l'esploratore non ha tratto insegnamento dalla Lashonara di Miriam, allora noi inseriamo qua il discorso degli esploratori. Dobbiamo capire in che modo poter accostare le due Lashonara che ci sono state, perché apparentemente sono due Lashonara totalmente distinte, non c'entrano assolutamente nulla. Prima di rispondere a questa domanda cerchiamo di entrare un attimino nel discorso degli esploratori. Com'è possibile che 12 tzaddikim, 10 di 12 tzaddikim, pecchino e facciano una maldicenza nei confronti di Erez Israel? E qual è stata effettivamente la loro colpa? Adesso Moshe Rabbeinu dice agli esploratori, entrate nel Rez Israel e salite sul monte. I commentatori si chiedono quale monte, di che monte parla Moshe Rabbeinu? I Chachamim rispondono che abbiamo parlato di un solo monte nella Torah, ed è il monte della legatura di Yitzchak, il monte del sacrificio di Yitzchak, dove Avraham portò il figlio a sacrificarsi per Akkadosh Barucho. E qual è il motivo per cui Moshe Rabbeinu richiede agli esploratori di andare sul monte? Perché Moshe Rabbeinu chiede un qualcosa agli esploratori. Chiede di dimostrare coraggio, come ha dimostrato Avraham Avinu. Chiede di dimostrare amore nei confronti di Akkadosh Barucho e chiede di dimostrare sacrificio nei confronti di Akkadosh Barucho e delle sue richieste. Nella Torah è raccontato che gli esploratori non salgono effettivamente sul monte, tornano e fanno maldicenza. Maldicenza. Vedono i popoli, vedono quanto sono potenti i popoli che vivono nei rezi Israel, vedono le città fortificate e perdono la fiducia in Akkadosh Barucho. Non riescono a fare quello che gli chiede Akkadosh Barucho e quello che gli chiede Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu gli dice salite sul monte, voi dovete dimostrare coraggio, amore e sacrificio per Akkadosh Barucho. Loro questo se lo dimenticano, non salgono sul monte, non fanno quello che gli chiede Moshe Rabbeinu. Puoi essere veramente un tzaddik quanto vuoi, puoi essere un grandissimo tzaddik, ma se non sei in grado di dimostrare amore, sacrificio e emunà, coraggio, affidarti ad Akkadosh Barucho, allora tu cadrai sempre. Questo è il primo insegnamento che ci dà la Parashah sugli esploratori. Moshe Rabbeinu chiede agli esploratori di comportarsi come Avraham Avinu, gli esploratori non fanno questo. Questa è la prima risposta che danno ai Chachamim. La seconda risposta che danno ai Chachamim è perché effettivamente il motivo per cui loro non vogliono entrare in Eretz Israel è perché in Eretz Israel è una vita differente rispetto all'Egitto. Se in Egitto loro hanno tempo di studiare Torah, di stare con il popolo, di fare sacrifici, di dedicarsi interamente ad Akkadosh Barucho, in Eretz Israel è una vita di fatica, è una vita di lavoro, è una vita dove è una vita dove il popolo e le persone non hanno tempo di dedicarsi interamente ad Akkadosh Barucho. E gli esploratori non vogliono questo, gli esploratori vogliono dedicarsi completamente ad Akkadosh Barucho. Qual è stato però il loro peccato? Il loro peccato è che in realtà, secondo un'interpretazione rabbinica, loro hanno fatto questo per paura di perdere la propria posizione. Loro sapevano benissimo che una volta entrati in Eretz Israel non ci sarebbero più stati i capi tribù. Ci sarebbe stata una monarchia, loro hanno visto che entrando in Eretz Israel avrebbero perso gli attuali poteri che loro hanno. Che cosa c'entra questo con Miriam? Come abbiamo visto settimana scorsa, Miriam è stata punita per aver fatto una lesionara apparentemente giusta nei confronti di Moshe Rabbeinu, sottolineando però il fatto che anche lei fosse importante. La sua lesionara in realtà nascondeva un rammarico sulla sua figura. La sua lesionara giusta, la sua critica nei confronti di Moshe Rabbeinu in realtà era un qualcosa per valorizzare la sua figura. E anche in questo caso gli esploratori non hanno imparato nulla da Miriam. In realtà la loro maldicenza nei confronti di Eretz Israel non era tanto per poter rimanere in Egitto e poter dedicarsi completamente ad Akkadosh Baruch Hu, bensì era per non perdere il proprio valore, non perdere la propria posizione. Per questo motivo Rashid dice, così non sono riusciti a imparare nulla dal peccato di Miriam. Anche gli esploratori hanno fatto una critica nei confronti di Eretz Israel apparentemente giusta per poter valorizzare se stessi. In seguito a questa Akkadosh Baruch Hu fa morire 15.000 Yehudim ogni tisha be'av secondo l'interpretazione rabbinica e muoiono tutti quelli che sono usciti dall'Egitto tranne gli ultimi 15.000. I maestri si chiedono per quale motivo e la risposta che danno i maestri è perché gli ultimi 15.000 erano sicuri di dover morire. Fino all'ultima ondata di 15.000 morti a tisha be'av, ogni Yehudim pensava ma quest'anno mi salvo, non ho bisogno di fare effettivamente teshuva perché tanto sicuramente non prenderà a me. Gli ultimi invece erano sicuri di dover morire e quindi la loro teshuva è una teshuva giusta. Dico Nehachamim, tu devi fare teshuva come se fosse la tua ultima spiaggia. Per poter essere veramente accettato da Akkadosh Baruch Hu devi fare una teshuva al 100% vera. Se tu credi, sì ma tanto non colpirà a me, allora lì effettivamente sbagli. Lì effettivamente Kadi e la tua teshuva potrebbero non essere accettata. Quindi dal discorso dell'esploratore impariamo tre grandi cose. La prima è che per poter superare anche le più grandi paure bisogna avere amore per Akkadosh Baruch Hu, coraggio e emunà, fede in Akkadosh Baruch Hu e mettersi in gioco per Akkadosh Baruch Hu. Il secondo insegnamento è che quando noi facciamo una critica a qualcuno, in realtà dobbiamo essere sicuri che non la facciamo per valorizzare noi stessi. E il terzo insegnamento è che la teshuva viene accettata una volta che noi siamo sicuri di essere colpevoli. Se non siamo sicuri di essere colpevoli, Akkadosh Baruch Hu potrebbe non accettare la nostra teshuva. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.